benvenuti a questo nuovo appuntamento con senior news vediamo insieme i titoli di oggi alla protezione civile il premio festa dei nonni per l'impegno in aiuto degli anziani durante la pandemia speed record di attivazioni per l'identità digitale mai più anziani vanno aiutati grey panther oggi parliamo di come funziona il qr code anziani la salute si conquista a tavola il cambio di stagione impone una nuova dieta è stato consegnato al capo del dipartimento della protezione civile angelo borrelli il premio festa dei nonni 2020 il riconoscimento attribuito dalla fondazione senior italia nell'ambito della campagna festa dei nonni è stato assegnato ai volontari della protezione civile per lo straordinario impegno in aiuto delle persone anziane durante il difficile periodo della pandemia come la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio a consegnarlo direttamente ad angelo borrelli è stato il presidente della fondazione senior italia roberto messina siamo qui oggi per consegnare una targa umile semplice come sono i nostri nonni d'italia ma senior italia federanziani e la fondazione senior hanno deciso di premiare la protezione civile per il grande lavoro che ha svolto e che sta svolgendo da quando c'è questa pandemia e soprattutto anche tempo di alluvioni proprio in questi giorni e volevamo dirle grazie a lei e a tutti i collaboratori i dipendenti e i corpi che sono inclusi all'interno della protezione civile per ringraziarvi a nome di tutti i nonni d'italia per il grande lavoro che fate io ringrazio lei e con lei tutti quanti nonni d'italia perché è un riconoscimento che ci fa piacere indubbiamente il nostro lavoro è una vocazione e quando poi arrivano riconoscimenti come questi ci danno ancora maggiore sprone per le nostre attività devo dire che questa emergenza è stata un'emergenza eccezionale straordinaria una pandemia che ha colpito non solo il nostro paese ma l'intero mondo e il lavoro che noi abbiamo portato avanti come sistema di protezione civile uomini e donne come ricordava lei prima delle nostre strutture operative delle nostre componenti del sistema di protezione civile hanno fatto sì che il tessuto sociale potesse comunque reggere e anche il sistema sanitario è stato affiancato dai nostri volontari dai nostri operatori del sistema di protezione civile quindi sono veramente orgoglioso di ricevere questo premio noi facciamo il nostro lavoro con grande dedizione sono 10 milioni gli italiani che finora hanno richiesto e ottenuto uno speed il sistema pubblico di identità digitale che proprio nell'anno dell'emergenza covid ha visto crescere i numeri delle adesioni lo speed garantisce l'accesso con una sola password ai servizi di inps inail amministrazioni pubbliche ai servizi fiscali ma la rivoluzione digitale non ha portato soltanto benefici anzi a qualcuno ha complicato parecchio la vita soprattutto tra i più anziani come sottolineano varie sigle sindacali di pensionati i più anziani vanno aiutati l'appuntamento con grey panthers questa settimana è con la tecnologia oggi la direttrice vitalba paesano ci spiega che cos'è come funziona il qr code avete già visto intorno a voi questo simbolo è il qr code un codice che contiene molte informazioni al suo interno un po' come accade con il codice a barre dei prodotti alimentari che vediamo al supermercato il qr code può essere decodificato e letto attraverso per esempio lo smartphone come vedete in questa foto come si usa il qr code e perché conviene saperlo decriptare beh per esempio nei ristoranti che in questo momento non possono far circolare causa covid i menù cartacei il qr code sistemato sul tavolo permette attraverso i nostri cellulari di far accedere all'elenco delle portate che possiamo ordinare ma il qr code si vede anche all'interno delle mostre nei musei negli orti botanici addirittura in alcuni negozi persino su certe pubblicità quando si vuole saperne di più si legge il qr code e si hanno tante informazioni in più quindi un codice da conoscere su greypanthers.it anche questa volta un articolo con tutti gli altri dettagli e perché saperne di più essere più digitali più tecnologici fa bene con l'arrivo dell'autunno e dunque della stagione influenzale per gli anziani è importante prestare attenzione a cosa si mangia il consiglio degli esperti è di portare a tavola prodotti di stagione non rinunciare ad una buona colazione con latte e cereali prediligere a pranzo zuppe o minestri di legumi e verdure e a cena le proteine della carne e del pesce con preferenza per le carni bianche utili e graditi anche frullati e spremute di frutta fonti di vitamine e sali minerali senza trascurare naturalmente la giusta idratazione questa era l'ultima notizia grazie per averci seguito e arrivederci a domani